bella a tutti e tutte free withers e bentornati a questo nuovo appuntamento con spliff break oggi dopo la grande vittoria d'esordio ieri dalla nazionale italiana di calcio negli europei 2020 e si gioca nel 2021 oggi abbiamo scelto di fare un approfondimento riguardante lo sport e riguardante le nuove regole che verranno applicate proprio negli sport internazionali in particolar modo negli stati uniti dove le normative sono cambiate a livello federale ma anche a livello nazionale e quindi ogni stato che ha comunque regolamentato sta facendo pressione sulle normative degli sport sport internazionali e nazionali e questo sicuramente sta modificando di volta in volta i vari regolamenti per i vari test sui vari giocatori per l'uso appunto di varie sostanze oggi analizzeremo l'NFL l'NBA e anche il football il calcio in generale l'organismo internazionale che regola queste cose è la UADA che regola appunto il doping l'anti doping e le normative per i test per i vari giocatori nei vari sport sicuramente quella che è cambiata più di tutte è l'NFL con una notizia fondamentale che è quella che diffondiamo oggi che l'NFL insieme alla Lega insieme ai calciatori hanno deciso di dedicare oltre un milione di euro per la ricerca specifica sulle nuove applicazioni della cannabis e quindi andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si occuperà questo finanziamento di ricerca promosso dalla NFL e dai suoi giocatori della Lega quindi andiamo a vedere i tre punti fondamentali lo studio di ricerca si effettuerà per trovare gli effetti dei cannabinoidi sul dolore per trovare gli effetti dell'uso sui trattamenti e per vedere gli effetti sulle effettive prestazioni atletiche quindi studi importanti che vengono effettuati niente po' di meno che dall'NFL in persona organismi sportivi riconosciuti e importanti un cambiamento interessante però che è già avvenuto nell'NFL su questo tipo di normative per i giocatori è che non ci sarà più la sospensione per i test positivi ma verrà introdotto verrà utilizzato un programma di trattamento ed intervento specifico e l'unica punizione se si può dire così effettiva che verrà fatta al giocatore in caso di test positivo sarà una perdita dello stipendio di una sua frazione dello stipendio e dunque questa punizione monetaria sotto forma di multa parimenti nell'NBA questa cosa fondamentale perché anche nell'NBA sono cambiate le normative e quindi i test sono differenti e infatti l'NBA sta valutando in questi mesi di eliminare completamente i test specifici e quindi questi test probabilmente verranno direttamente tolti anche perché c'è una grande una grandissima pressione ricordiamolo su queste due discipline da parte dei singoli stati degli stati uniti che hanno già regolamentato e notizia di oggi in realtà di poche ore fa che il marijuana policy project l'NPP ha rilasciato un documento nel quale si sottolinea che sono 8 miliardi di euro i proventi dalla sola tassazione che sono stati dati agli stati dal 2014 grazie alla regolamentazione 8 miliardi di euro di cui 2,7 miliardi solo dalla tassazione dell'anno scorso del 2020 e ripetiamolo si tratta di soldi che vanno direttamente nelle mani dello stato che può farne ciò che meglio crede per la cittadinanza e non soltanto che rimangono all'interno del circuito di regolamentazione e del settore ma vanno nello stato nelle mani poi dei cittadini per migliorare la vita di tutti e questo è importantissimo è un punto fondamentale della regolamentazione per quanto riguarda il calcio la normativa internazionale ancora punisce l'utilizzatore quindi l'eventuale test positivo venia segnalato e si rischia una grande sanzione così come una sospensione delle attività agonistiche ovviamente quello di cui stavamo parlando fino ad adesso è riservato chiaramente alla molecola considerata è il thc perché se parliamo del cbd la wada ha già rimosso dal 2018 questa sostanza questa molecola dalla lista delle sostanze considerate doping e quindi il cbd non è considerato doping per la wada queste situazioni sono importanti da ricordare perché stanno cambiando le normative e così si stanno adeguando anche gli sport ma anche perché sono gli stessi sportivi in molte discipline a voler premere per introdurre normative più larghe su situazioni che non vengono considerate effettivamente doping durante l'uso o comunque successivamente ma che in realtà portano enorme enorme potenzialità di sollievo per chi ne fa uso come giocatore come rientro sul dolore come recupero fisico è un'evoluzione sempre costante ed è importante monitorare le normative soprattutto perché questi sport vengono praticati davvero davvero da milioni di persone in tutto il mondo ed è giusto che vengano diffuse le regole ed è giusto soprattutto che le regole siano corrette che rispecchino la scienza speriamo che anche le altre discipline seguiranno questo esempio iniziano a valutare questa cosa perché questo potrebbe servire ripetiamolo da spinta per i legislatori oltre che un viceversa ed è importante mantenere monitorato perché poi insomma all'uso è sempre associato a questa personalità poco sportiva quando invece vediamo che non è così e questo mito deve essere sfatato una volta per tutte perché la gente fa sport e magari usa anche cannabis non è nessun problema non c'è nessuna controindicazione anzi ripetiamo non dovrebbe influire sulle attività agonistiche ed è molto bello che si iniziano a esporre anche giocatori mondiali riconosciuti diverse discipline che si espongono a favore della regolamentazione questo è importante ed è sicuramente un enorme passavanti fateci sapere cosa ne pensate su questo tema specifico fateci sapere se voi praticate sport e come vedete questa situazione e come suggerireste di sistemare queste normative internazionali su questi sport che sono diffusissimi e conosciutissimi bella a tutti e noi ci vediamo domani con un altro importante approfondimento dal mondo bella a tutti fino alla libertà ciao ciao ciao